Per alcune persone, specialmente dopo Ianta, è particolarmente difficile perdere peso. Nonostante diete ferre, allenamenti estenuanti in palestra, molti di noi non riescono davvero a fare pace con la bilancia. E allora c'è chi si arrende e riprende a mangiare senza nessuna regola, oppure chi al contrario comincia diete ancora più ferre, allenamenti ancora più massacranti, ma comunque i risultati non arrivano. Sia in un caso che nell'altro possiamo danneggiare seriamente la nostra salute. Mai arrendersi però. Ed oggi insieme a Jill Cooper cerchiamo di capire davvero come averla vinta sulla bilancia. Jill Cooper la conosciamo tutti, è inviatrice di tantissimi metodi di allenamento, oltre che consulente, insegnante per alcune delle trasmissioni italiane più seguite, tra cui amici, grande fratello ed ora detto fatto su Re2. Diamo quindi il benvenuto a MedicaTV a Jill Cooper. Benvenuta Jill Cooper a MedicaTV. Buongiorno, eccoci qua, pronti, pronti, pronti. Pronti a parlare di un tema che ci interessa davvero tanto, perché ad alcune persone è così difficile calare di peso? Da che dipende? Allora vogliamo parlare di tutti, 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 tutti o di un momento della nostra vita? No, focalizziamoci sul momento della nostra vita dopo ianta. Dopo ianta. Allora, dopo ianta, allora, la prima, il primo problema è che noi cresciamo fino a venticinque anni. Dopo venticinque anni il nostro corpo comincia a invecchiare su tutti i fronti, sulla produzione di collagene, metabolismo basale. Il metabolismo basale si rallenta un per cento all'anno e per lì uno non lo sente, ma dopo dieci anni, vent'anni, stiamo parlando di un calo di venti per cento e venti per cento vuol dire semplicemente bruciamo giornalmente meno calorie e per questo cominciamo a mettere chili. Ok, ma tu a un certo punto hai iniziato a parlare di set point. Ci spieghi che cos'è e perché da questo set point può dipendere la nostra capacità o meno di dimagrire? Allora, il set point, tutti quanti devono un attimo soffermarsi e fare mente locale. Allora, il set point è quel punto peso dove quando sei innamorato non mangi più, scendi un chilo, due chili sotto o sotto Natale, sotto le feste, prendi un chilo e mezzo, due chili in più, ma il minuto che torna la tua vita regolare, torna a quel peso, facci caso. E diventa molto difficile a spostare il set point. Il set point è un punto predeterminato nel nostro cervello che viene protetto dal cervello con tanti, tanti meccanismi di meccanizzare il grasso, del metabolismo, dà l'appetito e potrei andare avanti. Allora, il set point purtroppo, legandoci a questo rallentamento metabolico, è l'inattività o magari mangiare male, si sposta negli anni, magari a diciott'anni pesavamo cinquanta chili, ci troviamo a trenta, trent'anni a cinquantuno, cinquantadue chili e quarant'anni ci troviamo a cinquantaquattro chili. Quei famosi cinque chili che sono difficili da gestire. Dice, ma prima non ero così. Esatto. Però la verità è che ti è spostato il set point. Ok, e come faccio io a resettarlo? Allora, la cosa... Dicchè esiste un modo. Esiste, è un grande modo. Il problema è che tutti la provano di attaccare in modo aggressivo. Allora, se tu fai la dieta aggressiva, dallo stesso giorno, dalla mattina alla sera va in palestra per fare lo sport, un'ora al giorno, heat, tab, da quant'altro, il tuo povero cervello si mette in allarme e ti difende un peso anche obesogenico. Per questo, per affrontare il set point, dobbiamo pianificare sei mesi, sei mesi, e pianificare una perdita, un calo di dieci per cento del nostro peso corporeo. Ok, ovviamente io sono in peso forma, io mantengo, non devo perdere i dieci per cento. Ma facciamo caso che siamo, pesiamo settanta chili e vogliamo pesare cinquanta e cinque. Per il primo sei mesi dobbiamo concentrarci su sette chili e mantenerli lontano dalla nostra struttura per almeno sei mesi. Dopodiché il nostro corpo dice, ah, ok, questa persona pesa un po' di meno e si scende. Scusami se continuo, ma la grande maggioranza delle persone abbandonano le buone abitudini al secondo o terzo mese. Ecco perché non riescono a mantenere il set point più basso. Ma quindi, Jill, ti faccio un esempio appunto. Io, per esempio, vorrei tanto perdere cinque chili, ma mi rendo conto che non riesco, no? E allora che cosa faccio? Spesso, a parte, vabbè, la palestra, il movimento, l'attività fisica, che comunque immagino faccio comunque bene, ma per esempio provo con la chetogenica, che comunque oggettivamente mi ha aiutato in un certo periodo a perdere questi chili in eccesso, che però poi è troppo ripreso. Quindi, allora, è una questione di pazienza, di stabilizzare, di mandare al cervello questo messaggio che tu dici, ma per un lungo periodo non dobbiamo fare un attacco al nostro metabolismo che sia un po' seduto. Allora, diciamo di nuovo, ritorniamo sulle regole per risettare il set point, è essere, volare sotto il radar del nostro cervello, farlo per un modo prolungato, molto costante, ci si serve, e la chetogenica è aggressiva, perché noi siamo programmati di andare in chetogenesi in giorni alternati, quando c'è una carestia, non siamo programmati per essere sempre in chetogenesi per sei mesi, è impossibile. No, fa male, tra l'altro. Fa male, assolutamente. Noi dobbiamo essere in grado di bruciare tutto, sia i zuccheri che i grassi, eccetera, eccetera. Il problema è che tutti vogliono risolvere, è un problema che ci abbiamo messo vent'anni da accumulare in due settimane, però io sono prova vivente, io peso come il mio 19 anni, il mio vent'anni. Come l'ho fatto? Lo faccio con la prima parola e costanza. Costanza. Non ho bacchetta magica, no, costanza. Costantemente mi alleno, costantemente mi integro, costantemente ci metto un'attenzione sul mio dormire e costantemente. Io faccio digiuno ad intermettenza. Cioè, quante volte digiuni? Io digiuno ad intermettenza, si chiama tre, time restricted eating, che vuol dire io ho una finestra di nutrimento e una finestra di digiuno ad intermettenza. Lo faccio da cinque anni, tutti e tanti giorni. Ok, cioè, quindi tu tutti i giorni hai una finestra in cui non assumi cibo. Di quante ore? Di circa 16 ore. Cioè, non cedi praticamente, per esempio. Prattica, io vado in chetogenesi tutti i giorni, ma poi io esco da chetogenesi tutti i giorni. E l'effetto è questo, perché il nostro corpo è bianco e nero, il nostro corpo non esiste grigio. O sta facendo una cosa o non lo sta facendo. Ok, così. O sta depositando i grassi o li sta bruciando. O si sta rigenerando, o si sta in movimento consumando energia. E per questo, ho appena finito una serie di webinars di digiuno ad intermettenza. Lo faccio da 2016-2017 e le nuovissime ricerche dal premio Nobel del 2017-2019 sulla crononutrizione è il futuro. Lo senteremo tantissimo a parlare di questo. Ma, cioè, di nuovo torniamo su cose fattibili da mantenere per tanti mesi e la costanza sarà sempre il segreto. In ogni caso bisogna restringere l'introito delle calorie, cioè non possiamo sperare di perdere, no? Cioè, devi comunque mangiare di meno. Su questo non c'è dubbio. Però tu non sei una di quelle che dice, no, carboidrato zero. No, assolutamente. Allora, e questi problemi... Cioè, qua mi dispiace che non possiamo parlare del webinar e quant'altro, perché... No, ma magari lo diciamolo dove possono seguirlo, così chi ci segue lo trovano... Allora, nowgooper.com, la mia palestra online. E perché? Che cosa è successo? Io faccio digiuno in intermettenza perché andava un po' di moda da punti di vista tra trainer, perché ti aiuta la massa magra. e poi ho avuto tante persone nella mia famiglia che hanno avuto delle malattie importanti e sono molto attenta di certe cose e da lì non vado oltre. Così io studio per rallentare il processo degenerativo del mio corpo. Ma preparando il webinar ho cominciato a approfondire tante cose. La crononutrizione dice, no, un caloria non ha un peso specifico del mio corpo, no, 4 kilocalorie per grammo. Se io mangio il carboidrato in un certo momento della giornata, peserà di meno. Se lo mangio al momento sbagliato, mi recano un casino, mi fa ingrassare di più. Ed è molto accattivante queste cose, perché non è vero che devi... Ovvio, devi mangiare bene, per carità. Ma già una persona che ha una nutrizione totalmente errato, se si mette a farlo comunque in digiuno e intermettenza, troverà benefici. Certo. Non è una scusa per andare a mangiare fast food, a mangiare schifetti. Però è un primo passo, perché non è una dieta. Non è una dieta. Non è uno risultato. È sostenibile nel tempo. Oh, è fattibilissimo. Cioè, la stragrande maggioranza delle ore che sfrutti è di notte. È vero. Stai dormendo. Otto ore sono di notte. Non ti pesa. Sì, esatto. Senti, Jill, molto interessante. Ci sarebbe da dire tanto, però magari poi ci torniamo. Ti faccio un'ultima domanda adesso, parlando dell'allenamento. Una delle cose che facciamo noi, soprattutto noi donne dopo gli anta, è quella di ammazzarci in palestra con allenamenti aerobici, oppure lo spinning, oppure una cossa sfrenata, proprio perché... E poi ci guardiamo i nostri dispositivi per calcolare quante calorie abbiamo bruciato, così il nostro senso di colpa lo mettiamo a tacere. Allora, è giusto allenarsi in palestra per rimagrire in maniera così frenetica? Qual è l'allenamento più adatto? Allora, man mano che superiamo le anta è molto importante proteggere la massa magra, ok? Perché abbiamo una riduzione di Lentor, Lentor è uno sarcopenico che ci fa perdere la massa magra. La massa magra è quella che ci tiene, il metabolismo attivo, e ci permette di rimanere attivi noi, e diciamo, autonomi noi fino a cent'anni. Così, il mio consiglio è, aerobico sì, perché serve per il sistema cardiovascolare, perché ci sono trainer che dicono, no, 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 non ti allenare cardiovascolarmente, che non va bene. Non va affatto tutti i giorni il lavoro aerobico, va alternato con quello che io chiamo calistenico, e io faccio una calistenica chiamata fluid, che è body weight. Lavoriamo col peso del corpo, con movimenti molto lenti e molto concentrati, ti scolpi, share, e ti aiuta anche a ridurre il cortisolo nel vostro corpo, perché non è aggressivo, è riflessivo. E così abbiamo benefici muscolari, ok, perché il cortisolo è catabolico, ti mangia il muscolo. Invece, se io riesco ad allenarmi con uno stato d'animo diverso, comunque con esercizi che ti mettono alla prova, te le garantisco, dopo dieci minuti mi odierai, però dopo due settimane, tre settimane, cominci a sentire molto più forza, e vedrai il tuo corpo che si scolpisce. Cosa è positivissima, questo ci piace tanto, motivo per cui verremo sicuramente a seguirti, perché ricordalo di nuovo, se vogliamo seguire i tuoi corsi, dove possiamo farlo, come possiamo farlo? Now, gilcooper.com, and now we'll do it, no ordinary workout. Perfetto. Allora, grazie, grazie mille per tutti i tuoi suggerimenti, torneremo poi a parlare, perché ci sono tante cose, tanti spunti che ci hai dato. Grazie intanto. Grazie a te, buona giornata a tutti.